Avete presentato da poco i risultati per il 2021, che anno è stato per voi? Un anno che ha rispettato le nostre aspettative, un anno di crescita. Sui nostri ricavi abbiamo realizzato un più 25% rispetto all'anno 2019. Lo stesso risultato si è anche realizzato sui KPI, le nostre prescrizioni mediche, e quanto è la risposta del mercato rispetto ai nostri integratori. Come si sta sviluppando la vostra pipeline e quali sono le esigenze dei vostri clienti? La nostra pipeline è una ricerca di sviluppo che è sempre in costante attività. Rispetto a nuove aree terapeutiche su cui andare a indagare o un miglioramento dei prodotti che sono già presenti a listino. Le aspettative sono quelle di puntare ad un accrescimento del nostro portafoglio prodotti e a questo si aggiungono anche l'ottenimento di ulteriori brevetti. A oggi con i prodotti in portafoglio ne contiamo 45 e a questi se ne aggiungeranno degli altri. Come state gestendo la pressione sulla supply chain, sui trasporti, sulla logistica internazionale? Abbiamo un po' agito in anticipo in questo senso perché avevamo già attivato in settembre dello scorso anno le varie commesse sugli ordini di produzione per cui la copertura sul nostro 2022 rispetto al nostro fabbisogno in termini di prodotti è coperta. Certamente stiamo assistendo su più fronti una crescita dei prezzi, delle materie prime e una situazione che è comunque gestita di shortage delle stesse. Guardando i prossimi mesi, qual è l'outlook per la vostra realtà e il vostro settore? La nostra view è quella che abbiamo già ripercorso in questi anni quindi è un percorso di crescita che ci accompagnerà al lancio di nuovi prodotti e soprattutto l'inserimento di nuove risorse nella nostra rete di informatori medico-scientifici. Grazie a tutti